Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Sagittario, tendenze energetiche generali per la seconda metà di ottobre. Andiamo a vedere. Abbiamo il carro, amici del Sagittario. Quando c'è il carro si parla di dare una direzione a una relazione, a una situazione, a un lavoro, a un'idea, a un progetto. È una carta che re-indrizza, diciamo così. Oppure per qualcuno può fare riferimento al dover effettuare semplicemente una scelta. Normalmente quando c'è il carro le scelte sono positive, sono fatte per, diciamo, una giusta ragione. Cioè, sono fatte in un modo corretto per voi, ecco. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono generiche, è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nullo, se per caso voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare o venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video, cliccando sul titolo del video. Sempre nella descrizione trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. La trovate anche scritta qui e la trovate anche nelle info del canale. Bene, andiamo a vedere che aria tira per la seconda parte di ottobre. Partiamo con un fante di denari. 8 di denari, giustizia, fante di coppe, sole, 5 di coppe e re di spade. Dunque ragazzi, ho come la sensazione che qui inizi qualche cosa di nuovo. Vi devo dire che avete l'otto di pentacoli, è una carta di lavoro, quindi se siete senza lavoro arriverà qualche cosa nella terza settimana di ottobre. Vi dico, per adesso potrebbe, siccome siete agli inizi, potrebbe essere un qualche, mi verrebbe da dire accordo verbale. Ok? Allora, sia che siate agli inizi di un nuovo progetto in un nuovo ambiente lavorativo o se siete autonomi, per esempio, state iniziando una collaborazione nuova piuttosto che un nuovo tipo di progetto, vi dico, la terza settimana di ottobre sarà improntata su questa cosa qui principalmente. È qualche cosa che vi occupa comunque la quotidianità. Se non fosse un lavoro, per esempio, perché vi ricordo che questa è una stesa generale, quindi può risuonare anche come affetti, come crescita spirituale, quello che a voi vibra di più. Le stese sul lavoro specifiche le ho già pubblicate, le trovate nelle playlist del canale e le potete integrare con queste letture, però diciamo che c'è qualche cosa che vi terrà impegnati nella quotidianità, giorno per giorno. È come se doveste applicarvi a qualcosa con dedizione e costanza. C'è poi anche questa giustizia. Io ho come la sensazione che qui vi stiate aspettando un riconoscimento. Però andiamo a vedere carta per carta, queste le vediamo poi direttamente dopo. Ripartiamo dal fante di denari, abbiamo un quadro di pentacoli e un sette di coppe. Ho come la sensazione che vogliate fare le cose in grande. C'è qualche questione che vi tiene legati a una certa realtà con i quattro di pentacoli, però c'è anche questo sette di coppe. Ho come l'idea che questo nuovo inizio, questo nuovo progetto, un nuovo percorso di studi, questo nuovo investimento, quello che per voi è, potrebbe veramente aprirvi delle porte. Fate attenzione perché quando c'è il sette di coppe non tutte sono possibilità che si possono concretizzare. Molte di queste possibilità sono illusorie, sono idee che fanno fatica a essere materializzate o possibilità che fanno fatica a essere concretizzate. Però c'è anche un detto che dice se volete raggiungere 50 dovete puntare a 100, quindi a mio avviso, insomma, puntare in alto fa bene. Poi non bisogna essere schiavi dell'ambizione, però. Andiamo a vedere l'otto di pentacoli. Re di pentacoli. Re di pentacoli e luna. Qui ho come l'idea che ci sia proprio un ruolo, un certo tipo di posizione che vogliate raggiungere. Se state aspettando una promozione, ragazzi, arriva. Entro la fine di ottobre arriva questa promozione. Perlomeno, può anche essere che non arrivi il contratto subito in secolo scritto, però arriva perlomeno il lavoro. Del lavoro in più mi verrebbe da dire. Ma giustamente siete in un nuovo inizio. Vi vedo concentrati. Fate attenzione a questa luna perché avete anche un sette di coppe, quindi qui ci sono delle proiezioni da dover scoperchiare. Non so perché mi viene da dire così. Come se doveste togliere il tappo, il coperchio, qualche pentola, guardarci prima dentro e vedere che cosa si nasconde. Se foste, se per esempio vi dirò, state lavorando in una società o in una azienda, insomma, con tanti dipendenti, e voi dobbiate diventare un quadro, un dirigente o comunque un supervisore, qualcuno che ha potere gestionale, diciamo, è un po' come se agli inizi di questo nuovo incarico vi doveste rendere conto di quali sono non le cose negative, ma le cose che sono state nascoste, le cose che dovete imparare a gestire, le cose un po' oscure, mi verrebbe da dire, vedendo questa luna. Sapete, no, che si dice che chi arriva in certe posizioni è perché è anche in grado di schivare certi problemi. Andiamo a vedere la giustizia. Uh, 5 di coppe e 5 di pentacoli. C'è qualcosa qua, eh ragazzi, con questa luna che deve venire a galla. Qui avete due carte di perdita, io ho come la sensazione che abbiate bisogno di una vostra rivalsa in questo periodo. E potrebbe proprio essere nei confronti anche di questo o re di pentacoli o fante di pentacoli, anche se sono più convinta che sia il re. Quindi se non siete voi i capi, il re potrebbe rappresentare un vostro superiore, qualcuno che dovete imparare a gestire quotidianamente. E' come se qualcuno stesse aspettando un evento esterno che rimette in equilibrio le cose, che vi dia il giusto merito, una cosa di questo genere. Andiamo a vedere il fante di coppe. Asso di denari, qui si vuole 8 di coppe, qui si vorrebbe iniziare, ecco perché c'è il carro, da un'altra parte, ecco perché c'è il carro. Eh sì, qualcuno sta chiedendo un trasferimento, probabilmente, fatemelo sapere nei commenti. O vorrebbe spostarsi, magari un cambio di reparto. Andiamo a vedere il sole. Re di bastoni. Due di pentacoli e la stella. Allora, questo re di bastoni può rappresentare un'altra persona, oltre al re di pentacoli, chiaramente. Anche perché qui abbiamo un bel due di pentacoli. Guardate, ho come l'idea, allora qualcuno potrebbe iniziare un nuovo tipo di relazione con questo re di bastoni, relazione lavorativa, di amicizia, romantica ragazzi non lo sento tanto, però comunque come a voi vibra va bene. Qui con la carta del sole sento che qualche cosa viene messo in luce. Allora, o volete gestire più cose allo stesso tempo, con questo due di pentacoli, o vi dico che per qualcuno si tratta di iniziare a essere chiari. Il sole è una carta comunque di prosperità, di abbondanza. Quindi se qui si fa un lavoro costante, arriva quello che è l'abbondanza. Quello che noto però, con questo 5 di coppe, ed è un po' l'energia che sento anche qui, adesso lo andiamo a vedere però, è che nonostante tutti i vostri successi, siete sempre focalizzati su quello che non avete. Andiamo a vedere. Appeso e mago. C'è voglia di cominciare, c'è voglia di iniziare qualche cosa di nuovo. Però avendo la carta dell'appeso, scusate, dicevo, con la carta dell'appeso è come se avesse la possibilità di prendervi un momento per guardare effettivamente le cose come stanno. Vi ricordo, avete il 7 di coppe e la carta della luna, e due volte il 5 di coppe. È come se foste focalizzati solo su quello che non avete, sulle zone d'ombra, perché questa qui è una carta di illusioni, quindi state puntando magari in alto e non è come se non riuscisse ad apprezzare quello che in realtà già avete nelle vostre mani, perché il mago ha tutti e quattro gli elementi nelle vostre mani, quindi è una di quelle carte che dice che potete fare tutto quello che volete, come lo volete. Dovete solo lasciarvi indietro queste zone d'ombra, questa sorta di mentalità in perdita. Vi ricordo che molte volte l'abbondanza non arriva perché abbiamo delle credenze limitanti che ci fanno pensare in carenza, ed è un po' l'energia di queste due carte. Vi dico, con la stella e il sole, qui c'è qualche tipo di sogno che inizia a prendere forma, l'appeso vi dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista, probabilmente inizierete a vedere anche le due coppe che sono rimaste in piedi, invece di guardare solo quelle che si sono rovesciate. Andiamo a vedere il radio spade. Abbiamo una regina di spade e un dieci di bastoni. Re e regina di spade. Ragazzi, qui è chiaro il messaggio, eh? C'è qualche questione da lasciare indietro, da dimenticarsi, qualche peso, qualche responsabilità, qualche illusione, qualche obiettivo, qualche punto d'arrivo, che magari non dico che non arrivi, però per ora è lontano. Ho come la sensazione che stiate aspettando che qualcuno dall'esterno, l'universo, la giustizia divina, un angelo o qualcuno, è come se vi desse la forza di muovervi. A parte che arriva, perché abbiamo questa figura, ma soprattutto quello che vi aiuterà è questo appeso, questo momento dove vi renderete conto di che tipo di mentalità in carenza voi avete. Certe volte basta veramente solo cambiare il modo di vedere la realtà, eh? e tenete presente che con la carta della luna voi avete una conoscenza, una visione della realtà che è a metà, non è completa. Difatti vi focalizzate solo su quello che avete perso e non su quello che avete ancora nelle vostre mani. Andiamo a vedere ancora una carta di Osho. Scusate. Wow, momento per momento e il silenzio che è la carta della stella. Ragazzi, qui ho proprio l'idea che vi dicano fate un passo alla volta e un 2 di denari e ce l'avete anche qui. cercate di prendere la vita anche un po' sorridendo, con filosofia, senza focalizzarvi troppo sul o mamma e se succede questo, o mamma e se succede quell'altro. E il silenzio. Questa figura è molto bella perché non so se si viene aspettata, però avvicino. C'è un viso disegnato con gli occhi chiusi e la luna è posta all'altezza del terzo occhio. è un po' come se vi dicessero guardatevi dentro. La carta della stella è quella carta che parla anche di destino perché il destino è scritto nelle stelle. Quindi ascoltate dentro ok? Quelle che sono i messaggi che arrivano. Se chiudete gli occhi potete canalizzare fondamentalmente. Ok, andiamo a vedere ancora una carta delle fatine. Presenza. è un po' come se vi dicessero vivete nel qui e ora senza pensare troppo al futuro o troppo a quello che avete perso. Godetevi quello che avete nel momento in cui state vivendo. Amici del Sagittario, spero che la lettura sia stata di ispirazione. Fatemelo sapere nei commenti con un like con la vostra iscrizione. Se avete piacere potete condividere il video. io vi ringrazio di essere stati qui con me vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao. Grazie. Grazie. Grazie.